Abbiamo già anche il dato di Bologna, abbiamo anche il dato di Bologna. Il dato di Torino vede davanti Stefano Lorusso tra il 46 e il 44,6 e Paolo Damilano tra il 36 e il 40, mentre abbiamo anche la prima proiezione flash per Bologna, che vede il grande distacco di Matteo Lepore tra il 58,2 e il 62,2 che doppia Fabio Battistini che si ferma tra il 27,7 e il 31,7. Adesso Rado sta elaborando i dati della Calabria e poi anche Napoli avremo la terza proiezione flash con queste altre due realtà.